Hai mai sognato una piscina tutta tua? Prima di immergerti in questo progetto, 5 consigli che ti possono aiutare a prendere una giusta decisione. Una piscina ben curata non è solo un'oasi di relax nel tuo giardino, ma può aumentare il valore della tua casa. È un investimento che la può rendere molto più attraente. Avere una piscina significa pensare anche i costi aggiuntivi, dall'acqua all'energia per il riscaldamento e il filtraggio, senza dimenticare i costi di manutenzione regolare e comunque i costi si possono accumulare. Quindi prima di procedere assicurati di avere una lista dei costi a cui andrai incontro. Le piscine possono essere progettate in maniera ecosostenibile, filtrazione ecologica, riscaldamento solare o altrimenti coperture che evitano l'evaporazione dell'acqua. Questi sistemi fanno una grande differenza per rendere il tuo angolo di paradiso anche più verde. In piscina la sicurezza è fondamentale, soprattutto se ci sono dei bambini. Recinzioni, coperture, tutte queste precauzioni servono a godere di momenti di gioia senza rischi. Esistono diversi modi per finanziare la costruzione di una piscina, a mutui specifici per la ristrutturazione o prestiti personali. Prova a vedere qual è il prodotto più adatto alle tue esigenze. Se ti stai ancora chiedendo se la piscina può fare al caso tuo, ma perché non iniziare con qualcosa di più semplice? Magari una piscina fuori terra. La decisione è tutta tua, ma la piscina può trasformare un'estate in una vacanza senza fine e soprattutto dietro casa tua. Per qualsiasi cosa contattami sotto, se no ci vediamo al prossimo video.